Celso Sokolov, grande partita anche questa sera, grande prestazione da parte della Luka. Sì, abbiamo sofferto per dire, un po' in recensione, un po' in attacco, io ho fatto tantissimi errori in battuta, però sai che alla fine è importante la vittoria, è importante che abbiamo preso quella vittoria pulita. Adesso pensiamo alla prossima partita perché quella partita è veramente stata pesante, tosta per noi, noi abbiamo sofferto veramente tantissimo, però loro hanno giocato bene, quindi guardiamo davanti, guardiamo di preparare meglio la partita a casa e la giochiamo. Ha aumentato il ritmo, si sente che siamo nel playoff 12? Sì, certo, quelle partite già adesso contano tantissimo, quindi sono le partite importanti, sono le partite che costano tanto e dobbiamo giocarli al massimo sempre, dobbiamo giocarli per sempre per la vittoria perché la Luka è punto per la vittoria. Ringraziamo!